ciao Giorgia, auguri di buon compleanno buon settantunesimo compleanno ci hai dato tanto, ci hai veramente dato tantissimo siamo dispiaciuti che abbia abbandonato il timone di Star Wars siamo dispiaciuti che abbia venduto tutto per 4 milioni di dollari siamo dispiaciuti che non ci ha chiamato e ce l'ha chiesto a noi, perché magari una colletta lo si poteva fare, lo prendevamo noi invece che Disney, che cazzo è sta Disney, vabbè comunque si va bene lo stesso, ti ringrazio volevo ringraziarti per aver sbagliato nel 1977 a fare un film che non volevi fare perché tu non lo volevi fare tu non lo volevi fare, ti hanno messo i bastoni tra le ruote, ti prendevano in giro tutti tutti i produttori non credevano ma che cazzo è sto nerd con la barbetta ma tagliati i capelli nel 1977, santo Dio vai in banca a lavorare, cosa vuoi fare a questi film questo flash gordo, ma smettile santo Dio, e tutti gli attori tutti ti prendevano in giro alla fine hai fatto un film che non volevi fare logicamente non ti sei accorto che hai fatto il miglior film della storia del film intero conosciuto però no, ma tu non te ne sei accorto e quindi ho fatto il secondo e ho detto però adesso voglio dimostrare agli altri voglio dimostrare a tutti che io sono un bravo regista quindi darò il mio film a un altro regista secondo me Irving Kaisner ha fatto non un capolavoro, oltre cioè come l'impero colpisce ancora non c'è nulla nel mondo non c'è nulla nel universo, non c'è niente ok, perfetto ma poi allora ti sei accorto di questa cosa fate il patac perché lui ha spaccato tutto e quindi adesso, aspetta che torno di nuovo vedo, mi inserisco un po' di più prendo un altro regista però stavolta lo voglio dominare un po' cioè lo devo mettere un po' così cosa facciamo? il ritorno degli oggetti perfetto senti però, siccome questi fan sono un po' anziani io bisogno di prendere della gioventù dei bambini ma perché questa cosa di bambini? non la capisco questa cosa di bambini santo Dio mettiamoci gli orsetti mettici gli Ewok ok, perfetto io l'ho gradito sono crescito con Guerre Stellari bello gli Ewok però ragazzi però ragazzi è altro Guerre Stellari non solo gli Ewok ma vabbè bene perfetto ok quindi ti sei incannucchiato un po' no? poi il tempo passa il tempo passa teni lì ma puttana boia a me sto film mi fa cagare a me sto film io voglio modificare o non c'avevo la pilla per fare qualcosa di più figo come cazzo faccio? come cazzo non faccio? come faccio? puttana il 97 ale è arrivata la tecnologia è arrivato il CGI gasato come una ponga nos nel computer cominciamo a fare dei robottini mettici tutto episodio 4 puttana episodio 4 ma porca boia ma doveva essere l'episodio 1 avevo bevuto un sacco di pepsi quella sera lì probabilmente il gas mi ha dato un po' alla testa ho fatto una canocchia ho messo episodio 4 all'inizio del primo film porca boia adesso penso come risolvere questa cosa e allora ho detto ma rimettiamola a posto cosa facciamo? facciamo no però io sono troppo buono ho l'anima Anzolo deve aver sparato per seconda perché Anzolo è l'eroe no Anzolo ha sparato per prima e tu lo sai santo Dio c'hai il male dentro Giorgio ma tu non lo accetti c'hai il male dentro sei in satanico in realtà tira fuori il satanica in te santo Dio basta sti bambini sticini hanno già l'asilo il cinema lasciacelo noi santo Dio e così dopo si è andato ci ha fatto tutte le modifiche e lì noi fan abbiamo cominciato a insorgere perché cos'è questa roba il vermone lì già va nel primo film con la coda ma cos'è sta roba santo Dio e gli omarelli e tutti sti corsi stronuzzati il robot che pesta l'altro dai basta guarda stellare sono cose serie mica non stiamo parlando di un film qui stiamo parlando di qualcosa che va oltre l'immaginazione va dentro qui ragazzi c'è gente che c'è gente che cambia il proprio nome da Elisabeth a Obi-Wan che nobi cioè non dico delle cazzate santo Dio quindi George pensa un po' a quello che fai comunque li hai cambiati tutte e tre sfortunatamente il primo tempo di episodio 4 è una merda totale il resto un po' si salva però va bene ma tu avevi ancora lì quella roba di episodio 4 che non la mandavi giù ma no che cosa ho fatto allora ho detto ce l'ho un'idea facciamo uscire la prequel di trilogy inventiamo sta cosa del prequel così già era un figo prima adesso è un fenomeno facciamo sta prequel di trilogy puttana noi fans ci è venuto un gas allora innanzitutto il lavoro è scomparso la figa ma cos'era la figa Commodore 64 è attesa Commodore 64 poi dopo è arrivato anche il 386 il computer il pc puttana tutti là da aspettare sto cazzo puttana vado al cinema a Forlì Dolby Digital X gasato come una ponga mi metto a guardare sto film la mano vado alla fine siamo usciti c'era un silenzio che sembrava di essere un funerale perché in realtà eravamo un funerale eravamo il funerale di tutto ciò che era stato Star Wars per noi santo Dio Giorgio ma cosa hai fatto hai fatto un film dove c'è una goccia di sangue dove c'è Pluto vestito da ranocchia ma dove c'è Pluto vestito da ranocchia casca anche il telefono perché mi ingasso ma santo Dio hai vestito Pluto da ranocchio giaccia faceva le cazzate che neanche fantozze erano così imbecille santo Dio ma non però in questo film ci hai messo una delle robe più fighe della terra lui Darth Maul Darth Maul è una delle robe più fighe è la roba più figa probabilmente ha fatto il combattimento migliore di tutta la storia del cinema di fantascienza e di spadacini puttana boia va là che questo è il nemico che farà moduolo tutto la no lo secchi dopo 5 minuti santo Dio era una cosa bellissimo figo incazzato ma guardate ma guardate che lavoro ma fa una paura santo Dio con sto spadone due mani che da dello slap peppaconi a tutte no tu l'hai segato subito come per dire sapete fans sapete fans guarda stellare è roba mia adesso vi piace vi piace vi piace lo taglio in due così imparate guardate sono io guarda stellare sono io e qui non hai capito niente ma comunque si hai fatto il secondo non so probabilmente eri a testa in giù quando l'hai scritto perché non si capisce un cazzo va bene però ci hai messo probabilmente stai guardando per un pugno di dollari e poi stai guardando Kermit perché hai fatto Yoda che fa le spadacinate che sembra Clint Eastwood ma cos'è sta roba il conte duco no il conte duco carino Dracula ok va benissimo bello e poi basta non si capisce niente è un bordello due pali queste roba con i finocchi le zecche giganti ma Giorgio ma perché mi chiamavi pronto Robby mi dà una mano a fare i pesati due io ti dicevo sì ho un'idea non farlo va bene ok poi si è arrivato al tre siccome noi fan siamo dei cozzoni siamo dei cozzoni e ci crediamo siamo andati qui in Italia c'è stata mi ricordo che presi un'ora di ferie dal lavoro per stare davanti al computer per comprare i biglietti per andare all'arcadia di mezzo a vedere il film su guerrastellare.net ciao Carlo e là pronto li ho comprati esauriti subito e poi non eravamo neanche nella sala principale muoravamo pieno di gente tutti gasati quelli della cinquecentunesima che ancora per me erano degli alieni in tutti i sensi arriviamo là bimbo comincia il film la scena iniziale una roba veramente da pelle d'oca e poi erano questi robottini tracagnotto tracagnotto va bene si danno le slap le slap ai pacconi così da deficienti dai Giorgio ma porca putta poi il resto del film si guarda anche dark poi alla fine è cominciato un po' ragazzi guardate un po' lattanti vi faccio vi do un po' del vecchio guerrastellare ma tanto quello non è guerrastellare sono film di fantascienza sì sono dei bei film di fantascienza lo posso dire gli chiamano guerrastellare ma no 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 e poi dopo ti sei fermato hai cominciato a vivere di reddita tanto con i 250 mila milioni di pianeti i 250 mila milioni di personaggi le 750 mila astronavi in ogni film c'è un'astronave diversa in ogni film c'è un personaggio diverso è sempre tutto diverso perché ogni personaggio equivale a una minifigure ogni pianeta equivale a un pianeta ogni astronave equivale a un'astronave giocattolo quindi te ti sei fatto 90 mila milioni di soldi con quest'idea che avevi avuto già ai tempi del vecchio guerrastellare del merchandise bravo però hai rotto un po' i maroni a tutti noi fortuna che dopo è uscito Indiana Jones 4 frigorifero basta vado oltre ok a questo punto 31 dicembre 2012 sono a tavola con i miei con i miei amici e gli dico ragazzi c'è una notizia bellissima divento babbo e tutti che figata poi dopo un po' guardo il mio telefono George Lucas ha venduto tutto alla Disney puttana era stato una delle serate più belle della mia vita perché ho capito finalmente che te hai capito che al mondo di guerra stellare non gli potevi dare più niente ma la storia non è finita santo Dio non è finita quindi ha cominciato a prendere la Disney cosa ha cominciato a fare la Disney ha cominciato a proprio a dire ragazzi fans venite noi abbiamo capito le vostre necessità venite facciamo tutto per voi e ha cominciato sia in Italia che all'estero bababa e vedi roba e venti poi hanno cominciato a fare Rebels Rebels molto critica molto infantile però ha un senso logico perché ascolta un attimo facciamo questa serie per i ragazzini quindi vuol dire che i film sono per noi per noi adulti per noi grandi che vogliamo in sangue e quindi brava brava poi prende il regista JJ Abrams ditemi un'alternativa a JJ Abrams ditemela non me l'avete detta perfetto e poi ha preso l'attore giusto poi ha preso la gente sconosciuta e poi ha preso il cast vecchio ma stola voi se ne avete ragazzi siete davantissimi e poi tutte le convention un sacco di roba un sacco di novità e costumi bravi 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 e poi l'uscita di un film ogni anno The Rock One bellissimo anche lì attori ottimi bellissimi Diego Luna la storia la storia cioè non stanno sbagliando una virgola poi salta fuori un articolo George adesso perché sono fuori non si lo caga più nessuno adesso è in casa sono là apre la porta dicono adesso è quello che ha venduto Guardia Stellaria e quindi lui è un po' smaronato allora ha detto adesso rompi i maroni un po' anch'io allora ha scritto ragazzi io avevo un'idea che la Disney non l'ha voluta io volevo fare un film con gli adolescenti con gli adolescenti e poi dite che la Disney non ha capito niente la Disney ha detto George basta hai rotto i maroni con gli adolescenti ha preso quell'imbecillo di Jack Lloyd che su tre fenomeni ha preso il più scarso voi guardatevi su episodio 1 gli insetti speciali gli ultimi tre che vanno a fare gli attori ce n'è uno che è uguale a Mark Hamill bravissimo ma lui ha scelto il più mongolino Jack Lloyd non aveva un'idea recitare questo ragazzo ma lui ha preso lui ora il 16 dicembre non è proprio vicinissimo ma il tempo vola sono vecchio quindi fra 30 anni sarò morto ma almeno l'episodio 7 me lo guardo ragazzi bella George Lucas buon compleanno ma stai in casa stai modesto rilassati metti i piedi sul balcone beviti un mojito e guarda il cielo che ti dirà un sacco di cose buon compleanno buon compleanno